Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e oggi parliamo di Wildermyth. Wildermyth è sviluppato da World Waker Games che non mi è nota per null'altro, è un gioco indie che cerca di unire insomma il gioco di ruolo al combattimento strategico turni. Infatti va a mescolare una componente narrativa tramite delle parti a fumetto e una componente di combattimenti che sono appunto strategici turni con delle caselle quadrate, un po' alla XCOM per intenderci. Avremo un party che inizialmente nella prima campagna è composto da tre tipi di combattenti, un guerriero, un ranger, quindi un arciere di combattimento a distanza e un mistico che assomiglia al mago ma in realtà ha delle differenze abbastanza sostanziali di cui parlerò perché sono un componente davvero originale di questo gioco. Questi tre avranno appunto un'avventura, incontreranno degli altri componenti che potranno unirsi al party e avranno una storia che è suddivisa in tre atti. Questa storia si divide su parti che sono più gestionali diciamo con la mappa che viene vista dall'alto dell'area di gioco e invece delle parti di combattimento appunto su una casella, cioè su una plancia come dicevo prima con caselle quadrate. Il gioco è molto strutturato su una generazione procedurale per cui sia la mappa del mondo che gli scenari in cui andremo a effettuare i combattimenti variano di partita in partita come anche sono randomizzati i personaggi che possiamo andare ad incontrare e possiamo in realtà anche crearli a nostro piacimento con il nome che vogliamo noi, le caratteristiche che vogliamo noi, alcune di esse in realtà vengono rollate per cui nulla ci vieta di rollare all'infinito ma non possiamo direttamente scegliere le note. Però nonostante questo il gioco riesce a fornire una trama davvero molto avvincente perché si sviluppano alla fine delle cose persistenti, quelle che legano sia i personaggi tra di loro con delle meccaniche di relazione di rivalità, amore o amicizia o addirittura potremo ad un certo punto incontrare dei figli o comunque parenti di eroi che abbiamo usato in passato che stiamo usando in quel momento. Questo fa sì che la trama principale è quella ma gli eventi vanno a formare delle dinamiche interne e un legame anche con il giocatore molto importante per cui alla fine della campagna o al momento della morte perché la morte purtroppo è permanente tranne un tentativo insomma di salvare il personaggio che comunque gli dà un malus per tutta la campagna per cui rimane ferito insomma in modo molto importante e resterà appunto con delle caratteristiche molto ridotte. Altrimenti la morte è permanente quindi il giocatore ci rimane molto male quando capita una di queste cose qua perché tutto ti fa essere legato a questi personaggi e a questo party. Qualcuno di più, qualcuno di meno ovviamente dipende anche da quello che succede e dalle scelte, dal tipo di personaggio che ti trovi di volta in volta. Una cosa molto importante di questo però è che i personaggi non vanno persi per sempre ma sia al momento della morte che al momento del pensionamento perché esiste un pensionamento perché essendo che le campagne durano parecchi anni ci sono alcuni eroi che invecchiano e a un certo punto si ritirano dalla vita di avventuriero possono entrare nella legacy. La legacy in pratica è un meccanismo per cui nelle partite successive potremo trovare come degli eroi già affermati eroi che abbiamo usato noi in partite precedenti per cui se nella prima partita creiamo Mario Rossi che poi a un certo punto muore e lo facciamo entrare nella legacy a un certo punto magari in un'altra avventura troveremo in un villaggio questo Mario Rossi che è un eroe locale e quindi è un po' conosciuto e possiamo decidere di reclutarlo costa un po' di più rispetto a reclutare uno di livello zero insomma di livello base ma ci dà la possibilità uno di ritrovare un personaggio che già conoscevamo e due di andare a ripristinare delle abilità o dell'equipaggiamento che comunque lui aveva quando è morto oppure quando si è ritirato e questo è un meccanismo diciamo molto interessante che cresce ancora di più il meccanismo per cui si rimane legati dei personaggi ad esempio io sono rimasto stra affezionato a Bria e Elmla che sono rispettivamente una combattente con lancia e una combattente con ascia che ho avuto rispettivamente nella mia seconda e prima campagna e tutte le volte che le incontro nella mappa di altre campagne non posso fare a meno di cercare di reclutarle nuovamente per una nuova avventura con loro in cui vivranno esperienze diverse però alla fine sono il personaggio che ho creato insomma e con cui ho iniziato altre avventure in precedenza alcuni di essi invece magari entrano e muoiono subito oppure non ci si affeziona per cui si decide di non inserirli o comunque rimuoverli dalla legacy e poi pian piano che si completano delle campagne si possono comunque decidere di far salire di livello legacy questi eroi per cui si potranno trovare di livello più alto quando si affrontano le altre campagne per cui può essere da livello 2, livello 3, livello 4, livello 5 fino a livello stay che mi pare che sia al massimo di un eroe che può essere all'interno della campagna ma torniamo un attimo a quello che dicevo prima riguardo ai mistici o ai maghi perché se i guerrieri hanno un comportamento abbastanza standard cioè servono a tankare, hanno tanta armatura fanno danno da mischia e hanno una differenza più che altro dal punto di vista del tipo di arma perché armi contundenti come la mazza danno un knockback all'avversario armi lunghe come lance hanno la possibilità di attaccare a due caselle di distanza mentre armi come le asce diminuiscono l'armatura mentre invece le spade hanno un'opportunità di danno più elevato ma non hanno altri bonus e le daghe hanno invece un critico molto alto ma un danno base più basso i ranger giocano molto sullo stealth per cui cercano di stare nelle retrovie e comunque molto va nel silk plane che è praticamente uno stealth insomma una situazione di invisibilità per cui molti di essi hanno magari delle caratteristiche che potenziano questa cosa qua per cui magari quando sono invisibili ignorano l'armatura quando sono invisibili fanno più danno quando sono invisibili rimuovono parti di armatura una volta che attaccano oppure addirittura una volta che uccidono o che fanno un critico possono entrare direttamente in situazione di stealth la classe più particolare è quella del mistico perché non ha delle magie sue nel senso che non è che lancia delle palle di fuoco fa partire dei fulmi dalle sue mani o che in pratica riesce a infondersi con elementi dell'ambiente per cui l'azione base del mistico è l'infondersi con un elemento dell'ambiente e in base all'elemento si hanno poi la possibilità di attacchi diversi per cui se un'infusione con un tavolo permette di farlo esplodere in mille pezzi e quindi l'attacco splinter blast che fa sia danno penetrante per cui che ignora l'armatura sia shredding di armor cioè che distrugge permanentemente parte dell'armatura di chi è colpito ed ha un danno d'aria c'è invece l'infusione l'infondersi con una pietra o una roccia o un pezzo di montagna o comunque delle rovine di una casa fa partire dei sassolini che a mo' di dire rimbalzo insomma possono colpire più nemici in successione per cui se la percentuale di successo è alta se le abilità sono alte del mago può andare a colpire e fare danni a più nemici consecutivamente colpendo il primo il secondo via catena ma non solo nel senso che per esempio se incontriamo degli alberi o comunque degli elementi di flora possiamo utilizzare le radici per bloccare i nemici sul posto oppure per spostarli in un'altra posizione se troviamo un posto o comunque degli elementi di acqua o di liquidi possiamo surriscaldare il liquido scagliandolo addosso al nemico che anche in quel caso è un danno ad area che ha penetrazione ma non rimuove armatura e via dicendo per cui anche quello la proceduralità della zona in cui ci troviamo a fare il combattimento cambierà tantissimo quello che può fare il mistico e di volta in volta dovremmo andare a scegliere in cosa fare infondere il mistico e come utilizzarlo anche perché questi oggetti poi subiscono del danno più vengono utilizzati ovviamente se noi facciamo infondere il mistico con un tavolo e lo facciamo esplodere in mille pezzi per romper l'armatura il tavolo è esploso non c'è più niente quindi dobbiamo poi dopo utilizzare un altro elemento dell'ambiente per poter continuare a fare danni insomma con il nostro mistico e può essere sia un ruolo di supporto che un ruolo di attacco dipende sia da come è buildato sia da come appunto è strutturato l'ambiente che si trova lui intorno in quel momento la build praticamente dei nostri personaggi si suddivide in due parti in due componenti l'equipaggiamento ha un equipaggiamento base che è craftabile che include armatura che è l'abbigliamento alla fine e l'arma principale mentre una seconda parte di inventare sono degli oggetti che troviamo all'interno del loot randomico delle nostre avventure che possono essere degli orecchini una collana un bracciale una sciarpa un borsello anche dei pet talvolta che aumentano delle caratteristiche e quelli non sono potenziabili ma al massimo sostituibili se nello stesso slot c'è qualcos'altro e non sono craftabili si possono solo trovare mentre invece la seconda parte della build sono le abilità e queste vengono scelte salendo di livello e vengono pescate da un pool vengono pescate casualmente da un pool ce ne sono alcune che sono multiclasse per esempio l'abilità bardo che permette di reclutare altri eroi a un prezzo diminuito o ci sono delle abilità specifiche per classe per esempio appunto il fatto che il ranger può entrare gratuitamente in stealth dopo un'uccisione oppure il guerriero ha dei taunt oppure del potenziamento dell'armatura o un fase di guardiano barra sentinella per cui se qualcuno si muove nella sua area nell'area intorno a lui attacca automaticamente anche non nel suo turno mentre invece il mistico ha delle abilità tipo può evocare delle piante o degli alberi o potenziare determinati tipi di attacchi tipo un mistico più propenso alla pietra per cui quando fa degli attacchi dopo un'infusione con una con una pietra fa più danni o comunque ha delle abilità maggiori o ha delle abilità di buff dei personaggi che circondano oggetti infusi e via dicendo le campagne che troviamo all'interno di Wildermith sono parecchie quella principale che è anche quella tutorial iniziale cioè proprio il primo atto è proprio tutorial e spiega un po' tutto è una campagna in tre atti che ha come nemici le gorgoni e una sua storia poi ce ne sono altre quattro campagne che sono da cinque atti l'una di cui io al momento ho giocato soltanto le prime due e mi mancano le altre due mentre invece qui dopo c'è la possibilità sia di fare una campagna tre atti totalmente randomica quindi con nemici randomizzati e una storia meno strutturata cinque atti randomica oppure tre atti legacy solo legacy quindi si incontreranno solo eroi legacy oppure cinque atti solo legacy che sono appunto altre quattro campagne aggiuntive che aggiungono più rigiocabilità e tra l'altro quelle legacy sono molto interessanti per il fatto che comunque trovi solo personaggi con cui hai già giocato e ti permette di ritrovarli e di riscrivere delle nuove avventure con loro anche se comunque pure nelle altre avventure si trovano i piloti cioè gli eroi legacy e in alcuni di essi anzi sei obbligato a scegliere alcuni di essi oltre a questo c'è un'enorme possibilità di moddare il gioco nel senso che sia dal punto di vista degli scenari e delle parti di narrativa c'è un un editor interno che permette di costruire completamente sia gli uni che gli altri per cui nella parte di fumetti ci sono tutti i fondali possibili immaginabili e puoi metterci dentro tutti i personaggi che vuoi sia personaggi legacy tuoi che personaggi creati ad hoc e inserire nei vari fumetti la trama che uno desidera per cui per questo aggiunge una modabilità e una rigiocabilità davvero molto molto alta per cui mi sono dovuto fermare io dopo 25 ore di gioco dicendo no ok adesso facciamo una recensione perché mi sembra di aver visto abbastanza tutto del gioco però ho voglia assolutamente di tornarci di continuare di fare delle altre avventure di vedere gli altri nemici perché ognuna delle 5 campagne principali comunque è un tipo di nemico principale su cui c'è il focus incontri tutti i nemici tutte le tipologie di nemici ce ne sono alcuni che sono diciamo degli automi più o meno sono dei macchinari con coscienza che distruggono tutto cioè non tanto coscienza insomma con intelligenza che distruggono tutto c'è un altro in cui ci sono delle gorgoni qui ci sono dei mostri tipo l'actulu e degli animali corrotti e c'è un altro in cui invece sono degli insettoidi altri tipi di nemici che sono tipo delle sorte di cultisti del sottosuolo e via dicendo che si incontrano un po' tutti nelle varie campagne ma appunto ogni campagna ha un focus su uno specifico di questi nemici e ognuno di questi nemici ha delle strategie diverse con cui essere affrontato meno alcuni c'erano più tanconi altri più buff altri più maghi o via dicendo io detto questo non posso che assolutamente consigliare Wildermith ma già già mi ispirava in partenza ho visto la valutazione su steam estremamente positiva che anche attualmente al momento della registrazione è estremamente positiva ho letto recensioni positive in giro abbastanza ovunque e non posso che confermarlo è davvero un bel gioco è davvero un gioco che aggiunge cioè che mischia insieme una trama interessante ma molto rigiocabile e combattimenti strategici a turni che come sapete a me piacciono sempre molto per cui super consigliato e detto questo io concludo la recensione invitandovi a lasciare un mi piace se vi è tornata utile un commento qua sotto e iscrivervi al mio canale se per caso non lo è stato già fatto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti Grazie a tutti.